Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo al colore sul monitor quindi in questo caso se vedete il vostro display, il vostro monitor di un colore giallastro, giallo oppure un altro colore che è un solo colore, quindi vedete solamente un solo colore sul display quindi per risolvere così il problema, quindi per risolvere questo errore andiamo direttamente su G gestione colori, gestione colori andiamo così a selezionare il nostro dispositivo, quindi in questo caso se usate più monitor assicuratevi di selezionare il vostro dispositivo io metto così il mio monitor Dell S24HG più scheda video a fianco ci clicco sopra, poi vado direttamente su Dell, questo qua a mio modello faccio aggiungi ed ecco lì qua i profili ICC come puoi vedere su OPS Studio state prendendo tutto il monitor con tutti i colori quindi si vede normale, quindi non è un colore giallastro oppure altri colori diversi quindi provate così a inserire l'SRGB questo qua, fai ok metti questo, imposta come profilo predefinito una volta fatto chiudi qua e riavvia il tuo sistema operativo se non dovesse funzionare puoi sempre provare tutti i gestione colori per vedere quale che è meglio per te io ovviamente sul mio dispositivo sui profili ICC era già selezionato il Dell questo qua, questo qua e faccio ok imposto come profilo predefinito questo qua che è lo stesso colore che state vedendo nella registrazione quindi a me si vede normale con un colore così normale e quindi si vede bene quindi se hai altri problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao